Sono il dottor Vincenzo Giovannelli, titolare della farmacia omonima, rinnovata da poco, a cui ho voluto dare un'impronta particolare, recuperando un pochettino la professione del farmacista e abbandonando quella che è la parte commerciale, nuda e cruda della farmacia. Quindi si sono sviluppati i servizi della farmacia e il consiglio al cliente. La cosa più bella della professione del farmacista mi viene da dire la professione del farmacista. Il farmacista è un esperto del farm. Questa sua esperienza dovrebbe essere trasferita al cliente paziente. Ho scelto BD Roa dopo aver visionato varie aziende perché mi è sembrata la più affidabile. I vantaggi dell'uso del robot sono molteplici. Garantisce sia il farmacista che il paziente. Il farmacista dal punto di vista della conservazione del farmaco e della sicurezza della spedizione. Il paziente per la rapidità della consegna del farmaco stesso. Mentre prima andavo in giro per gli scaffali con le ricette che mi facevano da piatto, i farmaci sulle ricette e spesso il farmaco non era quello esatto ma dovevo tornare indietro per cambiarlo. Quindi un disagio non indifferente e tempo perso per poter stare di più col paziente. Il magazzino automatico è sicuramente un investimento che ogni farmacista dovrebbe fare compatibilmente con le esigenze economiche di spazio.